buon pomeriggio mesami good afternoon my friends amigos nave da crociera tedesco americana in partenza attraccata per il momento al porto turistico di salerno alla stazione marittima e cinque volte più grande del crescent salerno città ce ne sono due è una città galleggiante c'è il casino c'è la banca ci sono cinema teatro sono quasi 70 mila a bordo sono scesi tutti nella mattinata in salerno città 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 città